Eccoci amici, siamo all'interno della grotta del Pantino, proprio nell'antico giardino della villa del Pantino, grotta del Pantino in onore a Pantino, Pantino di Bencivegni Baroncelli, colui che nel 1100 costruì la prima casa torre nella zona che poi diventò il Pantino. Ovviamente lui non se la intitolò, non la chiamò la zona del Pantino, la chiamò la zona del Paradiso, perché non c'era nulla in quel posto. Era una meraviglia per gli occhi, per il cuore, per l'anima. Ma tornando alla grotta del Pantino, questo ninfeo venne commissionato da Lorenzo Niccolini, il Marchese Niccolini, successore della famiglia Bandini che abitava nel 1700 in villa, a Giuseppe Menapuoi. Giuseppe Menapuoi nel 1745 tirò sullo scheletro della grotta e nel 1746, l'anno successivo, Giuseppe Giovannozzi insieme al suo figlio e a un manovato la decorarono completamente. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quello che c'è all'interno della grotta e i suoi tanti segreti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a scoprire nei particolari che cosa c'è in questa grotta. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la grotta è divisa in tre parti. La parte superiore riguarda il teatro, la parte inferiore riguarda le arti antiche e la parte centrale, come se fossero due fumetti, riguarda l'esoterismo. Partiamo dalla parte centrale, la parte esoterica, però bisogna tornare al primo riguadro, che è quello là, venite a vedere. Quindi, guardiamo la grotta come se ci fossero davanti a noi due fumetti, il primo e il secondo. Sono due grandi riguadri. Guardiamo in dettaglio che cosa è raffigurato nel primo fumetto. Il primo riguadro rappresenta un villano, un contadino, con la pelle scura. Perché con la pelle scura? Perché era nero di carnagione? No, perché rappresenta, in esoterismo, rappresenta la putrefazione, colui che non ha la conoscenza, l'anigredo. E quindi viene aggredito da un drago, questo contadino, e lui, per chiedere aiuto, manda le mani, le braccia verso il cielo. E qui abbiamo un riferimento importante a Trismegisto, che ricorda forse il grande alchimista leggendario, come in alto, così in basso, così in cielo, così in terra, direi io. E così lui, per chiedere aiuto all'alto, al divino, al grande architetto dell'universo, manda in alto il braccio. Sempre per stare a indicare, ovviamente, così in cielo, così in terra, che siamo un tutt'uno. E gli viene in aiuto un leone, un leone con gli occhi di sangue, inforcati. E questo leone gli dice, beh, io ti posso salvare dal drago, però devo entrare dentro di te. Io entro dentro di te, vivrò all'interno del tuo corpo, sarò parte della tua anima, ma vivrai, perché io riuscirò ad uccidere il drago. Beh, il villano accetta. Il villano accetta questa proposta, ed ecco che dobbiamo andare al secondo riquadro per capire come va a finire la storia. Ed ecco qua il leone che entra all'interno del villano, che poi non era un leone, ovviamente, ma era Lucifero, il portatore di luce, entra all'interno del villano, diventa ovviamente Lucifero, riesce ad uccidere il drago, tant'è che il cane del villano, del contadino, non lo riconosce e li azzanna, li morde la zampa caprina. Quindi da quel momento Lucifero, in questo caso colui che porta la luce e la conoscenza, andrà per sempre nel mondo. Beh, c'è anche da dire che il leone ovviamente rappresenta la forza, il coraggio. Tanti mi dicono, ma ci sono due draghi all'interno della grotta? No, ce n'è uno solo. Cioè sì, ce ne sono due, perché ne hanno realizzati due, ma come ho detto prima, è un fumetto. Prima sequenza, seconda sequenza. Quindi è sempre il solito drago. Una cosa molto importante da dire è che quando la grotta venne costruita, era stata ideata come grotta a cielo aperto, a fontana a cielo aperto. Quindi il tetto non c'era, il soffitto non c'era, perché serviva per raccogliere l'acqua piovana. E il Marchese Lorenzo Niccolini, anche i suoi successori, portavano le madameugelli all'interno della grotta e facevano il bagno all'interno della vasca, con l'acqua piovana. Perché, come ho detto prima, il tetto e il soffitto non esisteva. Una fontana, una vera fontana a cielo aperto. Quindi immaginate voi, le signore che entravano qui con la gonna lunga, azionavano l'acqua, partivano gli zampilli d'acqua e queste alzavano la gonna e da cosa poi ovviamente nasceva cosa? E facevano il bagno nella vasca. Andiamo adesso a scoprire i segreti della parte inferiore. Allora, il committente, Lorenzo Niccolini, era un grande amante dei teatri, dei circhi che c'erano a Napoli. E a Napoli c'erano molti nani, molti nanoidi. E quindi li fece raffigurare a Giuseppe Giovannozzi, in questa grotta, sotto forma di arti antiche. E possiamo vedere là l'arte della retorica, colui che parla al popolo, sempre sotto forma di nani, perché lui rimase affascinato da questi nani che vedeva a Napoli, in questi teatri, in questi circhi. E quindi l'arte della retorica, colui che parla al popolo, che sa parlare bene alla gente, che incanta. Poi abbiamo la pittura. Beh, sono sculture inserite nella parete, sono degli altri rilievi, va bene. Ecco, però questo pittore non c'era, non c'era più, era scomparso, era andato via, si era sciupato, insomma, con il passare del tempo. E quindi colui che nel 2000 arrestorò la grotta, decise di farsi il ritratto. E quindi questa figura che vediamo lì con la tavolozza di colori, è colui che nel 2000 arrestorò la grotta. Ma spostiamoci sull'altra parte. Quindi abbiamo detto, l'arte della retorica, colui che parla al popolo, la pittura, e là abbiamo due attori, due attori che si azzuffano, due nani sempre, i questi nani che ricorrono molto in questa grotta, perché Lorenzo Niccolini era affascinato da questi nani, Goffi, Gobbi, due attori che lottano, che recitano la commedia dell'arte, perché abbiamo uno ovviamente vestito da Arlecchino con gli scacchi, e l'altro che gioca insieme a lui. Ricordiamo ovviamente Arlecchino perché ha scacchi, perché erano tanti ritalli di altri costumi che si era messo addosso. E là, sull'altra parete, la musica, il canto, il bel canto. Quindi abbiamo detto quattro arti antiche realizzate all'interno della grotta. Ecco, vediamo il cantante che canta con in mano uno spartito musicale, lo streggi. Sembra quasi da lontano un bicchiere, un calice, è come se fosse quasi Briago a cantare. Ovviamente il fatto che la grotta non avesse un soffitto, un tetto, portò dei seri problemi perché l'interno si stava sciocando piano piano con il tempo. E quindi, nella metà del 1800, si decise di costruire il tetto. Prima si provò con un tetto posticcio, fatto di carne, ma ovviamente non reggeva. E nella seconda metà del 1800 si decise appunto di fare il tetto finalmente in muratura. E venne affrescato il soffitto dal pittore Gaspero Puccinelli. E che cosa vediamo in questo soffitto? Vediamo gli alberi che contornavano nel 1800, la villa del Bandino, e questo cielo che ci porta verso l'alto e che ci fa credere ovviamente che sia ancora una volta una grotta a cielo aperto. Notate anche quanti volatili, quanti uccelli sono stati dipinti da Gaspero Puccinelli nell'immensità di questo cielo. Andiamo nella parte alta. Vediamo tantissimi mascheroni. Cosa sono questi mascheroni? Sono donne? Perché li vediamo il seno. No, no, sono donne. Ricordiamoci che all'epoca a teatro le donne non potevano recitare, recitavano solamente gli uomini vestiti da donna. E quindi quelli sono uomini, uomini truccati da donna, con i seni finte ovviamente, che recitano in questo spazio teatrale illusorio all'interno di questa grotta. Possiamo vedere un volto bianco, vediamo un volto rosso, e vediamo sempre due volti neri che rappresentano coloro che non hanno la conoscenza, messi di fronte a coloro che invece hanno raggiunto un altro livello di iniziazione. Se guardiamo in alto verso quel mascherone, c'è un gancio di ferro. Che cos'è? L'ha voluto lasciare colui che nel 2000 arrestarò la grotta perché era il gancio che gli serviva per appendere il secchiello per pitturare le varie sculture. Ecco, un'aggiunta ovviamente che lascia un segno anche nel futuro della grotta del bandino. Giuseppe Giovannozzi nel 1746 si è divertito anche ad inserire alcune piccole cose pitturate in qua e in là. Abbiamo per esempio la chiesa di Santa Margherita Montici, abbiamo San Francesco e il Lupo, abbiamo un pastore che porta a spasso il gregge vestito un po' da personaggio della commedia dell'arte, abbiamo tante case torri che all'epoca ancora esistevano e che oggigiorno ovviamente nel contato fiorentino non ci sono più. Abbiamo anche un orso che è sospettoso guarda dall'alto il pastore con le pecore. Sono veramente tante, tantissime le conchiglie all'interno della grotta che provengono da ogni parte d'Europa. Abbiamo un inventario dettagliato di tutti i nomi e le tipologie di conchiglie che ci sono e da dove essi per me vengono. Come ho detto all'inizio, prima di questa grotta c'era un'altra grotta, la grotta dei Bandini e c'era all'interno di questa grotta una statua, la statua di Alfeo e Aretusa, le due divinità greche. Beh, questa statua venne tolta dai Niccolini e venne posizionata nel centro della grande vasca circolare settecentesca in ferro battuto che adornava il cortile della villa. Questa vasca adesso con il più in loco venne smontata dal mio bisnolo, da Carlo Masegni e venne venduta alla villa che c'è tutt'oggi in via di Antigiano, la villa Il Poggio alla Mela. Beh, ma la statua di Alfeo Aretusa venne presa dalla famiglia Fletcher la famiglia prima dei miei se la misero sotto braccio la incartarono e la portarono sulla nave fino in America e adesso è esposta al Metropolitan Museum di New York con una bella targa costruita from Villa Il Paradiso Florence. E quindi qui nel basamento che cosa c'era? Cosa mise il Marchese di Colini visto che la statua di Alfeo Aretusa la fece togliere? Fece costruire un'altra statua la statua di Venere e Adone e anche questa purtroppo non c'è più oggigiorno si crede sia scomparsa anch'essa alla fine della seconda guerra mondiale. Ci sono due targhe realizzate da Giuseppe Giovannozzi che ricordano l'inizio della costruzione della grotta e la fine della costruzione della grotta fece Giuseppe Giovannozzi 1746. Ma da dove usciva l'acqua? L'acqua usciva dalle bocche dei due draghi che riempivano ovviamente tutta la vasca. Queste panchine in pietra serena sono state realizzate ex novo perché le panchine vennero tolte negli anni negli anni 60 e 70 e sono all'interno del giardino sono completamente diverse da queste e quelle lì sono le panchine originali che servivano insomma per le persone che entravano all'interno della grotta per rinfrescarsi durante le grandi calure estive. E' quindi un luogo ovviamente usato anche per consumare rapporti sessuali. Ecco vediamo sulla facciata sull'esterno della grotta come campeggia meraviglioso lo stemma della famiglia Niccolini un gatto pardo bianco su sfondo azzurro con una banda rossa come l'ingresso di un tempio come l'ingresso di un grande teatro tre grandi arcate per entrare all'interno della grotta azzurro azzurro Ecco la mia famiglia quando nel 1942 acquistò la villa del bandino e la grotta del bandino continuò ad utilizzare questo posto come si faceva in passato quindi facendo ceni facendo feste facendo il carnevale feste da rificolona matrimoni compleanni ceni addirittura all'interno della grande vasca dove inizialmente venivano fatti i bagni ci avevano fatto una piccola cucina per soddisfare insomma le persone che arrivavano all'interno della grotta e che si dovevano mettere a sedere all'interno di questo di questo spazio magico e consumare il pasto O figlio dello spirito della grotta protettore di chi ce l'ha bella e rotta stiamo qui riuniti per ringraziarlo perché ci ha protetto per vent'anni sotto il suo fallo prima l'aveva un detto cantesco posso farci vedere quanto in futuro pure possiamo vedere grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.